Federico Fashion Style, non mi dire come mi stanno i capelli, eh, questa sera? Sei bellissima! Senti, insomma, un curatore, un artista dei capelli, qui alla presentazione del libro su Coco Chanel. Sono qui perché mi fa molto piacere esserlo, oltretutto è un evento organizzato dal mio grande amico Fabio Palazzi, che devo dire che è il numero uno del G7. Anche se sono pieno di impegni, però lo faccio con immenso piacere. Pieno di impegni perché sarai a Ballando con le Stelle, quindi immagino che starai facendo un sacco di prove. Siamo nel totale delirio di prove, prove costumi, prove balli, prove studio, e devo dire che io di studio ne ho fatti tanti, ma lo studio di Ballando con le Stelle è un studio molto importante, che mi mette sicuramente tanto pensiero, perché voglio essere Federico Fashion Style sempre. Ma ballare ti è sempre piaciuto? È una sfida con me stesso, ballare... Sì, io mi sono sempre un po' mosso, però ho un conto muoversi e un conto esibirsi davanti a una giuria, la quale... cioè anche una giuria un po' particolare, vediamo quello che penserà di me selvaggia, non lo so. Ci puoi anticipare qualcosa sul tuo ballo di esordio? Non ho capito, scusami. Ci puoi anticipare qualcosa sulla tua performance di esordio? Non vi posso dire nulla, vi dirò soltanto che sarà un ballo che mi rappresenta molto, e avrò un'interpretazione di me veramente pazzesca. Grazie. Grazie a voi.